Già un po' di nuovo ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Inter-Juventus 2-1 Ragazzi ragazzi non si può prendere gol così Non si può prendere gol così Non si può ragazzi Scandalosa Partite che più o meno ha riuscito bene fino al 120esimo Sanchez da solo mette il pallone dentro ragazzi Finale persa ragazzi in un modo clamoroso In un modo clamoroso ragazzi Colpa nostra Sempre noi Ci rimettiamo sempre noi Ci rimettiamo sempre noi Stiamo sempre noi a rimetterci contro l'Inter ragazzi Sempre noi Sembrava vinta Sembrava vinta ragazzi Oggi ragazzi doveva finire 1-1 Doveva finire 1-1 E poi il rigore succedeva quello che succedeva ragazzi Però oggi ragazzi troppo duro Un modo troppo duro per uscire ragazzi Veramente scandaloso un gol per la coppola di minchia All'ultimo secondo ragazzi Veramente un gol per la coppola di minchia Dopo che siamo passati in vantaggio ragazzi Siamo passati in vantaggio E poi veramente il gol dell'Inter Su calcio di rigore inesistente Calcio di rigore inesistente ragazzi Ma di che stiamo parlando Calcio di rigore secondo me inesistente Inesistente Perché ovviamente Zeko Mette il piede su Desciglio ragazzi Zeko ha messo il piede su Desciglio Non Desciglio su Zeko Zeko ha messo il piede su Desciglio ragazzi Quindi secondo me non era calcio di rigore Si mette nei commenti E la calcio di rigore secondo me no Zeko ha messo il piede su Desciglio Non Desciglio su Zeko ragazzi E' scandaloso E' scandaloso ragazzi Ovviamente nel secondo tempo Morti Morti Nel secondo tempo morti Primo tempo supplementare morti Secondo tempo supplementare Qualche cosa abbiamo fatto ragazzi Al centoventesimo succede la disgrazia Al centoventesimo succede la disgrazia ragazzi Ma oggi si può giocare meglio ragazzi Questa partita era assolutamente da vincere L'Inter non ha fatto quasi niente Ragazzi oggi veramente siamo stati scandalosi Veramente scandalosi nel modo in cui abbiamo preso gol Nel modo in cui abbiamo preso gol ragazzi Che schifo Che schifo di moto ragazzi Io non lo so Io non lo so se arrabbiarmi O essere che ne so Avere qualche rimosso per loro Perché veramente oggi ci siamo arrivati al centoventesimo Uno a uno Ragazzi Ragazzi scandalosi Veramente non ho parole Al centoventesimo Hanno fatto gol al centoventesimo ragazzi Veramente non ce la faccio più Non ce la facciamo più ragazzi Svegliatevi Perché ovviamente contro la Sampdoria in Coppa Italia La stessa cosa facciamo Al centoventesimo prendiamo gol E' sempre così E' sempre così Adesso almeno il campionato Pensiamo all'Udinese ragazzi Almeno quella vinciamo ragazzi Perché oggi siamo stati Siamo stati non scandalosi Sfortunati Sfortunati ragazzi Veramente non ce ne può più Non ce ne può più Non ce ne può più ragazzi Veramente oggi sfortunatissimi Potevamo finire i rigori Potevamo vincere i rigori Ragazzi oggi veramente Al centoventesimo Chi ci crede Al centoventesimo minuto Al centoventesimo minuto Prendiamo gol ragazzi Veramente scandaloso Veramente non ci credo Non ci credo ragazzi Comunque siamo forse a Juve ragazzi Almeno il campionato Almeno lì Cerchiamo di fare bella figura ragazzi Vinciamo Tre punti portati almeno Contro l'Udinese La Coppa Italia Almeno quella là Almeno quella è da vincere ragazzi Almeno quella là È assolutamente da vincere Ragazzi forse sempre